Stretta di mano, accordo fatto e dunque ci siamo, c'è un nuovo allenatore nella Juventus, si tratta di Francesco Magnanelli che ha accettato l'invito di Massimiliano Allegri a far parte dello staff tecnico. Allegri lo conosce già, è stato un suo calciatore ai tempi del Sassuolo, lui che al Sassuolo è stato davvero una bandiera l'anno scorso, prima stagione dal collaboratore tecnico di Dionisi e adesso è pronto per cominciare la sua nuova avventura a Torino sotto la mole, prenderà il posto nello staff che ha lasciato vacante Paolo Bianco che dalla prossima stagione allenerà il Modena in Serie B.